Pasta e fagioli con salsiccia, una ricetta tipica di gennaio. La pasta e fagioli con salsiccia è una ricetta tipica del periodo invernale, ideale come primo piatto. Un piatto ricco, saporito e nutriente, adatto anche ai bambini più esigenti. Facile da preparare, richiede circa 30 minuti di tempo. Gli ingredienti necessari sono 180 g di pasta 100 g di salsiccia 1 cipolla 200 g di fagioli 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 1 bicchiere di vino bianco 1 cucchiaio di prezzemolo tritato Olio extravergine di oliva Sal Pepe Preparazione In un tegame antiaderente, far rosolare la salsiccia sbriciolata con un filo d'olio extravergine di oliva. Unire la cipolla tritata e farla appassire. Aggiungere i fagioli, precedentemente ammollati e scolati, e far insaporire il tutto. Aggiungere il concentrato di pomodoro, il vino bianco, il prezzemolo, sale e pepe. Lasciare cuocere a fiamma dolce per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Unire la pasta e farla cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Servire in tavola caldo.